Quanto è facile realizzare dei timelapse con Canon EOS R5? Oggi vi parlo proprio di come si fa a impostare questa fotocamera e videocamera per realizzare dei filmati in modalità timelapse. Vi suggerisco di guardare questo video per intero perché le modalità sono due, andremo a spiegarle entrambe e ci sono delle differenze. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi spiegherò come si fa a impostare Canon EOS R5 per realizzare un timelapse. Per chi fosse nuovo su questo canale vi consiglio di iscrivervi perché non mancheranno nuovi contenuti riguardanti questa e altre videocamere, nonché sulle svariate modalità di utilizzo che ci mettono a disposizione. Comincio col dirvi che questa fotocamera e videocamera, ovviamente essendo parzialmente ibrida, ha due modalità di realizzazione dei timelapse. Una tramite il menu foto e una tramite il menu video. Quest'oggi le vedremo entrambe. Vado a spiegarvi prima di tutto la differenza. Se noi realizziamo un timelapse attraverso il menu foto, quello che succederà è che la nostra fotocamera catturerà una sequenza di fotografie. Per cui ci ritroveremo la memory card piena di fotografie, ovviamente numerate progressivamente, e dovremo andare all'interno di un applicativo come può essere Premiere Pro, ma come ce ne sono anche tanti altri dedicati al timelapse, dovremo andare appunto a inserire tutte queste immagini e trasformarle in una sequenza filmata, che poi sarà il nostro timelapse. Viceversa con la modalità video, noi abbiamo la possibilità di dire alla nostra videocamera di catturare frame by frame quello che sta succedendo, ma il risultato finale sarà un file video già compattato. Quali sono le differenze? Il file video sicuramente è più comodo, perché è già un video già trasformato, quindi noi possiamo prenderlo e utilizzarlo così com'è e va già bene. Quindi c'è un grande vantaggio di versatilità nell'utilizzo della modalità video. Tuttavia, se vogliamo la massima qualità e versatilità possibile in post-produzione, ci conviene optare per le foto, perché noi possiamo realizzare una sequenza di immagini che avranno una risoluzione e una qualità maggiore, quindi andando poi a trasformare queste immagini in sequenza video, riusciremo a modificare meglio tutta la nostra sequenza di immagini, a essere più incisivi nella post-produzione e a realizzare in definitiva un formato dalla qualità maggiore. Quale delle due modalità è meglio usare? Ovviamente dipende dal risultato che ci si prefigge. Io vi dico che professionalmente di solito utilizzo la modalità video, semplicemente perché vado a lavorare su delle scene dove la luminosità è abbastanza decente, abbastanza controllata e quindi non ho bisogno di intervenire poi su tutte le foto per fare delle modifiche in Lightroom o in Camera Raw per essere più incisivo. Faccio una ripresa che va già sostanzialmente bene, devo stare attento che l'esposizione sia giusta ovviamente e quindi estraggo dalla mia videocamera un file video che è già sostanzialmente pronto all'utilizzo, andrò al massimo a fare un po' di color grading sopra il file finale ma poca cosa. Ovviamente dipende da quello che stiamo facendo, vi ricordo però che purtroppo, e dico purtroppo, non è possibile realizzare i timelapse in modalità log, quindi non è possibile essere così tanto incisivi sul file video. Possiamo andare sicuramente a modificarlo ma con un po' di caduta qualitativa, perché il profilo colore log deve essere disattivato per poter entrare nella modalità video timelapse. Andiamo subito a vedere come funziona. Perfetto, eccoci qui con la nostra fotocamera. Ora la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è accedere ai menu. Come potete vedere qui siamo già sulla sezione corretta. Se ci spostiamo sulla tab numero 6 del primo menu abbiamo Timer Intervallo. Nel momento in cui andiamo a premerlo andiamo a selezionare Attivo e qui abbiamo Impostazioni. Ora questa è la parte da cui noi decidiamo l'intervallo e il numero di scatti. Il numero di scatti può arrivare fino a 99 oppure può essere illimitato. Se lo impostiamo su illimitato significa che dovremo spegnere la camera per arrestare la nostra sequenza. Ora l'intervallo determina ogni quanto verrà scattata una foto, per cui noi potremo impostare per esempio 10 secondi. In questo modo verrà scattata una fotografia ogni 10 secondi per un numero di scatti illimitato. Ovviamente questo dipenderà anche dalla memory card che abbiamo inserito. Un numero di scatti illimitato non è possibile, quindi a un certo punto dovremo interrompere la nostra sequenza. Modalità otturatore. Vedete che qui è già impostato a elettronico prima tendina. Ora dovete sapere che meccanico è la modalità di otturatore che consente la qualità maggiore, mentre elettronico è quello un pochettino più versatile, un pochettino più smart. Personalmente credo che la modalità migliore sia elettronico prima tendina. Rilascio dell'otturatore senza scheda, io consiglio di metterlo su off in maniera tale che non corriamo il rischio di iniziare la sequenza senza la memory card inserita. Ora, questo è il modo corretto di impostare un timelapse nel momento in cui vogliamo farlo in modalità foto. Ma dovete sapere che su una fotocamera progredita come Canon EOS R5 esiste la possibilità di farlo anche in modalità video. La differenza qual è? Se lo facciamo in modalità foto avremo una sequenza di immagini da scaricare all'interno del nostro computer e da montare poi affinché diventi un timelapse. Se invece utilizziamo la modalità video, quindi premiamo il pulsante mode e andiamo a premere info, a questo punto scegliamo la modalità di ripresa che preferiamo, torniamo all'interno del nostro menu. Ora la prima cosa che dobbiamo fare è andare sulla terza tab del primo menu, andare su impostazioni log e dirgli no, perché il timelapse non è possibile se la modalità log è abilitata. A questo punto possiamo andare sulla quinta tab del primo menu e qui vedete che abbiamo timelapse disattiva. Noi ovviamente lo mettiamo attivo. A questo punto qui abbiamo tutti i parametri che possiamo gestire, per cui intervallo e in questo caso di nuovo andiamo a impostare per esempio i nostri 10 secondi. Subito dopo possiamo impostare il numero di scatti e qui possiamo andare a un massimo di 3600 scatti che sono comunque tantissimi. Infatti se mantenessimo le nostre opzioni così come le abbiamo configurate avremo un tempo di ripresa di 10 ore e un timelapse della durata di 2 minuti che è veramente tanto. Subito dopo abbiamo la possibilità di decidere la qualità della nostra ripresa. Io in questo caso vado a selezionare 4K, consiglio di fare altrettanto. Esposizione. Abbiamo la possibilità di avere un'esposizione fissa al primo fotogramma oppure di avere una nuova esposizione su ogni fotogramma. Questo ovviamente dipende se la luminosità della nostra scena cambia oppure se è statica. Per i timelapse che ho intenzione di fare io utilizzerò ogni fotogramma. Schermo auto off può servire per risparmiare un po' di batteria quindi io lo attivo e il mio schermo andrà off dopo che sarà cominciata la sequenza quindi non vedrò tutte le immagini a monitor. Bip scatto immagine. Questo potrei lasciarlo attivo perché così sento il bip e so che la mia camera sta ancora lavorando. Ora andiamo a vedere in che maniera è possibile stabilire in che modo vogliamo lavorare. per esempio io vi dico che imposterò la mia fotocamera in questo modo. Io voglio realizzare 300 scatti. 300 scatti è dettato dalla capienza della mia memory card perché non è troppo capiente per cui non voglio fare un numero esagerato di scatti. 300 mi sembra un numero più che dignitoso. E io voglio che la mia ripresa duri circa due ore perché il timelapse che io devo fare ha una durata di due ore sul macchinario che devo fotografare. Per questo motivo andrò a impostare una foto ogni 24 secondi quindi come potete vedere se fosse ogni 20 secondi la mia ripresa durerebbe un'ora e 39 e avrei 10 secondi di timelapse ma io vado a impostare 24 secondi e così avrò praticamente due ore giuste di ripresa con 10 secondi di filmato finale. Se io volessi andare a modificare il numero di scatti potrebbero essere per esempio 350. A questo punto vedete che sarebbero due ore e 20 di riprese per cui a questo punto io potrei andare a diminuire l'intervallo in maniera tale che si torni circa sulle due ore avrei 11 secondi quindi dobbiamo determinare se quello che ci interessa è il numero di scatti, la durata della ripresa o la durata finale del filmato. In base a questi tre fattori riusciamo a configurare il nostro timelapse e siamo in grado di andare a realizzarlo. Bene amici abbiamo visto il funzionamento e il settaggio di questa meravigliosa fotocamera e videocamera per quanto riguarda il timelapse sia foto che video. Ovviamente è una fotocamera di una qualità veramente eccelsa quindi in entrambi i casi ci ritroveremo con dei file di grandissima qualità. Va anche detto che in modalità foto avremo probabilmente dei file più pesanti e avremo del lavoro supplementare da fare per assemblare il nostro timelapse con tutti questi frame mentre in modalità video avremo un video già processato che viene fuori dalla nostra videocamera già lavorato quindi possiamo andare a utilizzarlo direttamente sui piattaforme social piuttosto che su un sito web piuttosto che su youtube. Abbiamo un video che può già essere utilizzato semplicemente così com'è oppure può essere lavorato ulteriormente e questo dipende unicamente da noi. Quale delle due modalità sia meglio usare dipende solamente dalla vostra destinazione finale. Se è un progetto per un cliente molto importante che vuole la massima qualità possibile, la massima capacità di intervento su ogni singolo frame, possiamo tranquillamente usare la modalità foto. Se viceversa siamo molto tranquilli di quello che stiamo facendo e sappiamo che un filmato già codificato può andare bene per il nostro cliente, possiamo tranquillamente utilizzare la modalità video. In ogni caso io vi consiglio di fare un po' di esperienza soprattutto con la modalità di impostazione della durata del timelapse perché a seconda di quello che facciamo i risultati possono essere diversi. Sicuramente se noi impostiamo il timelapse in maniera non corretta la durata finale del nostro file video non sarà più modificabile, o meglio sarà modificabile ma a scapito della qualità. Vi faccio un esempio su tutti. Se noi impostiamo il numero di scatti e intervallo in maniera tale che la durata finale del nostro filmato sia di 10 secondi, potremmo probabilmente portare il nostro filmato a 12 secondi perché possiamo probabilmente tirarlo un pochino senza perdere troppa qualità, però se abbiamo tirato fuori un file finale da 10 secondi non possiamo farlo diventare di 20 o di un minuto. Per questo motivo è importante ragionare prima su quella che deve essere la durata finale del nostro file. Se il cliente ci chiede un filmato di 30 secondi dobbiamo fare in modo che la durata finale del nostro timelapse sia effettivamente di 30 secondi, altrimenti vanifichiamo l'intero procedimento. Questo sia che lavoriamo con la modalità foto sia che lavoriamo con la modalità video. A questo punto io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere chi di voi fa timelapse, come lo fate se usate qualche accorgimento particolare. Vi dico la verità, io non sono tanto patito di timelapse, non ne ho sostanzialmente mai fatti prima di ora. Mi sono imparato come si fa perché lo devo proporre a un mio cliente, quindi sono andato a vedermi le impostazioni base per realizzare questo tipo di filmato e come già detto utilizzerò la modalità video perché sono abbastanza sicuro del contesto di illuminazione in cui andremo a operare. Fatemi anche sapere se avete mai provato questa meravigliosa fotocamera e videocamera, io l'ho avuta in prova per un periodo limitatissimo purtroppo solo per realizzare questo lavoro, mi piange veramente il cuore doverla restituire perché credo che potrebbe essere la migliore fotocamera e videocamera che io abbia mai tenuto in mano, però mai dire mai, magari un giorno ne trovo una per terra, in fondo può sempre succedere, no? A questo punto vi ricordo di lasciare un like a questo video se avete imparato qualcosa di utile, mi auguro proprio di sì. Vi consiglio anche di cliccare il bottone iscriviti perché ci saranno degli altri aggiornamenti con questa e altre fotocamere e videocamere, quindi rimanete aggiornati, attivate anche la campanella così non vi perdete i prossimi aggiornamenti. Io e Canon EOS R5 vi diamo appuntamento al prossimo video. Io e Canon EOS R5 vi diamo appuntamento al prossimo video.